Benvenuta al Deluxe Revealing, io lavoro qui, è un posto fantastico, non ci crederà mai, ma è incredibile Devi smetterla di dire che lavori nei posti, tu non lavori da nessuna parte, sei uno scansa fatiche, non puoi lavorare da nessuna parte Chiedi allora a Phineas Flynn e a Milo Murphy, i miei migliori amici, lavoratori e compagni Loro ti diranno che... Non l'hanno mai visto, Steph, stanno per chiamare la polizia se non la smetti Stai mentendo, stai mentendo Cioè il tuo collega di lavoro si mette a disegnare Eh sì, per quello io devo lavorare molto più di lui, Milo Murphy è un ragazzo un po' cattivo In ogni caso, mia cara, come faccio a sapere tutte queste cose se io non lavoro qui? In questo posto c'è un ascensore fatto tutto d'oro, tutto completamente d'oro E infatti è una struttura completamente di lusso Stai, ho visto una cosa bellissima E ci sono anche i consolini a quanto pare Scusa, mi stavo ascoltando, ma poi ho visto questo schermo E c'è il doge che suona Fare Un tamburo, è la cosa più bella che io ho Siamo in un posto completamente dorato Tutto di lusso E tu ti rimani a guardare là un cane Bellissimo Sei seria? Ti giuro che è una delle gif più belle che io abbiamo visto, Steph Tu sei seria? Allora, quindi portami questo ascensore d'oro Ah, allora mi stai ascoltando Perché l'unica cosa che ho sentito del discorso è che ho detto Finalmente, Steph, mi porto in un posto adatto alla mia magnificenza, no? Vieni, 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 vieni Ok, ok In realtà ti stavo ingannando Ma, ma, Steph È presente quando abbiamo fatto l'ascensore dei super cattivi? Ecco, praticamente questo è di lusso, però capitano cose brutte Non ci credo Già Aia Ma io sto qui in un lato, Steph State tutti ballando a mettere le convulsioni Sì, c'è qualche problema Ok, è passato? Ok, ce li sono Io sto qui dentro, faccio finta di nulla Però vedi che è di lusso? Eh sì, però le cose che capitano non sono di lusso, Steph No, esatto Io pensavo tipo che si aprissero le porte e mi portassi in una piscina dorata In un bellissimo resort Lo so Capito? E quello è il bello, anche io quando ho iniziato a lavorare Pensavo che andasse così E invece no E invece no, invece qua ti becchi solo cose brutte, Fere Eh, non mi piace, allora ce ne andiamo via? Finiamo così? Ma Ma che succede? Ma ce la fa? Ma Steph, quanto dura questo piano? Scusami, vieni qua, Steph C'è troppa calca lì, non mi piace C'è qualcosa di strano, io lavoro qui da un sacco di tempo Ah, ecco E vabbè, sono lenti i piani, Steph Un pix, un coin Ok, cosa vuol dire? Credo sia per succedere qualcosa No Fere, devi prendere i soldi Prendo i soldi! Prendi i soldi, Fere! Io sono bravissima, guarda Steph, li sto rubando a tutti, eh Non mi frega nessuno Vi ammazzo se toccate i miei soldi Ma che musica c'è? Ma per favore, ma gioco Ma che cosa sta succedendo? Non lo so, Steph Mi sta uccidendo le orecchie Però va bene perché sto prendendo un sacco di soldi Saldi Saldi gratis Il discorso è letteralmente una pioggia di soldi, eh Letteralmente, Steph Il mio sogno si è avverato Bisogna capire se vale un centesimo o un euro, dieci euro Non sappiamo quanto vale Una moneta Una moneta E quindi un euro? Non lo so Perché allora non è che stiamo diventando più ricchi, eh Una moneta di Roblox Ok Comunque quanto dura sto livello? Non lo so, ma continua a raccattare tutto Ok, la pioggia di soldi, Steph No, no, no 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 È l'altro livello Quindi Perché forse non ho fatto nulla E sono rimasta dentro l'ascensore in effetti Quindi sarà per quello Ah, capisco Ok, quindi adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo aspettare il prossimo Ah, dobbiamo aspettare ogni volta Va bene È un po' lento Lo vedi in alto Vedi che ti dice i piani? Siamo al 255esimo piano di questo palazzo gigantesco Ah, eccoli Il palazzo super di lusso 262 Ok Credo che Ecco, 265 Ok Oh no Oh no No, andate prima voi Che ogni volta mi fate cascà Infatti io sono partita a razzo Steph, ma perché partono ste musiche? L'avevo disattivata la musica Anche io l'ho disattivata la musica Toglietevi che poi laggate Steph Sì Sta iniziando a crollare Sì Il pavimento E sono caduto nella lava Ok Porca miseria Sta musica Ma perché? Perché c'è quella musica fastidiosa? Sì, Steph Allora, io ho deciso che mi levo i volumi Un attimino Perché non lo sopporto Stati, stia, non sta bene Non lo sopporto più Dopo che ha fatto The Flourish Lava Steph è diventato di un altro colore Dobbiamo tornare dall'ascensore? Sì Eccoci qua È stata un'esperienza orribile questa però Questo ascensore Non lo so Non mi sta intrigando molto Steph I livelli sono strani Ma no Fede, Fede È bello, è bello Te lo garantisco Cioè tu mi hai ingannato con l'oro Ma in realtà è un ascensore delle sorprese Ovviamente Ti volevo ingannare Perché so che a te piace un sacco l'oro I soldi E quindi ho detto Ah, così la freghiamo Credo che a 2,85 c'è il nuovo piano E infatti mi hai fregato bene, Steph Speriamo che Mi stiamo andando in alto comunque Tantissimo Più di 2,90 2,92 Ma che numero è? Steph, c'è il tuo collega Quello che disegna Fede, stai attento a Milo Steph è un assassino in realtà Fede, Milo è un tizio Ecco perché disegna Sì, sì, sì È un tizio un po' strano Aiuto È un tizio un po' strano Aiuto C'è un consolino che non ha capito Che stiamo registrando E quindi penso che vorrebbe che rispondiamo in chat Però non possiamo rispondere in chat Mentre stiamo registrando Ti posso dire una cosa all'orecchio? Sì, dimmi Sto per dargli una testata A Milo o al consolino? Al consolino Ah, capisco Non sopporto più, Steph Porca miseria Non mi puoi ripetere 20 volte le stesse cose Lo sai che registriamo Ah, ah Fede, scappa No, no Aiuto È presente Gordon Ramsay? Sì Ecco, è lui Ah, ma sta picchiando una Allora scappa nella cucina No, non mi devi picchiare No, non puoi andare in cucina Devi stare nel È appena esploso Ma ti prende anche nell'ascensore È appena esploso Sì, ti prende nell'ascensore È letteralmente esploso Per fortuna che non l'ho visto Non è una cosa molto, molto bella Praticamente ha dato le padellate Stava urlando e era tutto rosso Ed è esploso A un certo punto era talmente arrabbiato Che è esploso Perché era troppo arrabbiato E quindi sì Sì, te lo giuro L'ho visto È stata una cosa orribile Quanti piani ha questo plato? Però stanno andando più veloce adesso Due miliardi Fere Che è sta roba? Fere Che è? Fere Cosa dobbiamo fare C'è una pioggia di paperelle Non capisco Ma se ti prendono vanno male Ma come l'hai acchiappata? Se vedi un posto dove sbrilluccica la puoi prendere Ah, ok Le altre invece non si possono prendere Voglio quella che sbrilluccica Vabbè, è finito così Ma mi senti cosa fa la canzone? No, Steph Ho levato tutti i rumori Perché non sopportavo più le musiche di questo bellissimo ascensore No, Steph Non devi cantare anche tu Dai, va bene così Mi fido che stai facendo una bellissima canzone Milo Milo Murphy, mio amico Hai visto che bravo Mi è scomparsa la paperella Va bene È perché tutti ci stavano odiando Quindi 340 345 Quanto? 3, 4, 6 Ecco qua Io lo sapevo che Steph Mi doveva fregare Bene 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 Fere Steph Fere Un tizio appena schiattato Fere c'era tipo in mezzo all'ascensore Sto scappando Milo Pensaci tu Ma Steph Io vedo la visuale dall'alto È tutto strano Chi si è preso? Un po' di gente è stata presa Ah, ho notato Sì, sì Due a tre li ha presi Avrei preferito prendersi anche Milo Visto che è qui Che rompe però Dovresti andare alla recepzione A lavorare tu Non ci fai niente Milo, Milo L'ascensore A divertirti con i clienti Scusami Cioè, prima disegni Poi sarò nell'ascensore E intanto devi anche lavorare Non va bene Non funziona così la vita, Milo E poi guarda Siamo al piano 370 Ma davvero Ma finisce prima o poi i piani? Non lo so O arriviamo a mille? Arriviamo al mille Continua Dieci Nove Otto Non mi piacciono i timer, Steph Sei Non mi piacciono Cinque Quattro Tre Due Uno Zero Ok Ma non è che esplodiamo? Spostati per sicurezza Va bene Questo ascensore è più strambo Di quello dei super cattivi Te lo dico già Cos'è stato? Non lo so Che senso aveva? Sono succedendo cose parecchio strane Non aveva senso Te lo dico Era totalmente illogico Stato, puoi vedere? Bene, non picchiare i consolini Dai E basta 385 Ok Stiamo per vivere a 400 Secondo me a 400 c'è la sorpresa 389 Ma allora no Non ci può essere Bello Oh mio Dio Toglietemi tutti Aspetta, no, fare c'è John Cena? Sì, è John Cena Ma è esplosso Ma è esplosso È esplosso John Cena Ma porca miseria Come Gordon Ramsay Ma io volevo andare nel ring Steph Era il livello più bello Di tutta la mia vita E mi esplode E ti è esploso in faccia Sì Per fortuna Falesissimo Poteva esplodere Poi sono io Stef E sta spammando Ma è ovvio che stiamo registrando video Se non rispondiamo in chat Non ci vuole Einstein Io scrivo ciao E non scriverò mai più Mi ha pure chiamato Stef Stef Non ti permettere Stef Non lo dice nessuno No, a me piace Stef È contento adesso Magari il prossimo livello esplode lui, no? No, bene, dai Lasciami in pace, poverino 4, 2, 2 Adesso continua Non si starà mai zitto Lo so Non devi rispondere Deve raccoglierlo Cos'è? Sto andando Non esplodo È una patata Stef Esplode, secondo me Vero? Sì Ma c'è qualcos'altro lì? Stef è tornato nell'ascensore Con una patata Va bene, va bene La vuoi tu fare? Tutto normale Tutto normale Sei metato Tieni Tieni, fare Non la posso prendere Mi dispiace State facendo un video No, guarda Ma cosa te lo fa pensare? Cioè Porca miseria Hai chiesto la testa cosa 50 volte Ma figurati Ciao, casatino Ciao Oh, che bella casetta Oh, bella Che sta succedendo? Deve succedere Ma è tipo Io mi siedo qua Sottra E vedete questa canzone? No, Stef Ho levato la musica Te l'ho detto per la quarta volta Anche Stef Oggi si Si diverte a ripetere le stesse cose 50 volte Oggi Vabbè, Stef Questo livello Che dobbiamo fare? Io mi sto Mi sto a dormire Semplicemente la bella vita Con la canzoncina Bella vita È una casa normalissima No, è molto carina Come casa È carina ma normale Non è niente di... Ma c'è buon gusto nell'arredamento Esagerato Ti giuro Basta sto livello però Io torno nell'ascensore Sì, anche io Non ne posso più Ah, mi sa che fino a quando Non ce ne andavamo Ah, rimanevi così L'infinito Questa Lose New Girl Che è piccolina qua Era arrabbiatissima Se guardi la chat C'erano le faccine arrabbiate Ah Capito? Sì, sì, sì Beh, certo Hai ragione Perché se poi la blocchiamo 20 ore Nello stesso livello Si deve calmare un po' però Eh, diglielo Le scattiniamo il consolino Ve lo dico No, no Quello continua a chiedere per 200 volte Se stiamo registrando Rispondi, Ferre, rispondi No, ti fre... No Lasciamo in pace Ok, andiamo 4, 5, 9 Ok È pericoloso, vero? Io mi sposto per sicurezza Lo sapevo Ferre L'ha preso Può essere Porca miseria No, no, è bravo Porca miseria Ha preso Murphy Ha preso Murphy Ebbè, perché Murphy è tonto È un bot Murphy non c'è più Murphy ti ricorderemo per sempre Eh, non ti manca il tuo collega, Steph Sarà tornata alla reception Dai, sì Che fa bene Eh, almeno torna a lavorare Non ti preoccupare Io sto premendo anche i bottoni Però non succede nulla Che io voglio premere Ah, se possiamo prendere Premo il 18 Che è il mio numero preferito Fammi andare al pieno 18 Grazie Niente Sto spammando, niente Niente, niente Vabbè, poi guardo il video Non ti conviene Oh È anche questo Non è che dura l'infinito Aspetta, però La musichetta è strana Ok La musichetta è strana Steph, ci crolla in testa Io tolgo nell'ascensore Ho capito che torna in testa Ma so, per succedere qualcosa di strano La tizia che ne stavano in più del diavolo è andata di lì Io provo ad andare da lei Seguiamola Seguiamola Perché lei è l'esperta di questo ascensore Secondo che questa qua vive in questa mappa Vive nell'ascensore dei ricchi Sì, sì, sì Vive qui, Steph Sicuramente Ma che posto è? Non lo so È un posto di domino Questa ascensore è un po' strano Diciamocelo Ma va, io l'ho detto fin dall'inizio, Steph Diciamocelo che è un po' strambo Però Vabbè È finito È stato bellissimo Un livello molto toccante, Steph Ma non dimentichiamoci che io ho ancora la patata Ah, non ti è andata via questa? Cioè, mi ha appena parlato Steph, stai parlando con una patata? Bene, definita la voce tu, no, vero? Sì, va bene Sì, l'ho sentito dalle tue cuffie Ok Sì, è tipo un robot che mi parla Ed è una patata parlante Ok Secondo me è qualcosa di importante Allora Vediamo È tornata la domanda Ma state registrando? No Numero 500 Niente Ma può succedere qualcosa A un numero tondo? Mi fastidisce sto ascensore Anche a me non lo fastidio Non so perché fa questi numeri Cavola, cioè 500 è importante Non credo esistano molti prati A 500 piani Forse neanche uno Non ci credo No Bellissimo Più di Fai Più di Fai Ovviamente ti fiamo tutti Lui T-Series Non lo deve minimamente superare Più di Pai È geniale È bellissimo È bellissimo E ancora tiene Io sono felicissima Che ancora tenga Non si deve minimamente far superare Deve rimanere il numero uno Di iscritti del mondo Bello Mi è piaciuto Chiuditi Che cosa sta succedendo? Non lo so La musica è strana Ma sveglio stanno accelerando Velocissimi No Quello T-Series è fuori di testa Fere Stanno bottando gli iscritti In questo momento Guarda Ma sarà il contatore strano qua Stef Ma sicuramente no Vedi che sta bruciando Dici Vedi Non lo so Ma che problemi hanno in sto posto? No In questo ascensore Che problemi hanno? Non lo so Ma che cavolo Ma Murphy ha Toccato qualcosa De l'ascensore Dopo che è esploso Sì Ha fatto succedere qualcosa È strano È palese Allora Ascensore io te lo dico Siamo oltre 500 piani O ci dà qualcosa di interessante Ovvero i soldi O ti do fuoco O ti do fuoco Ok Ok Questa è la minaccia finale Quindi Mi raccomando Da bravo Qualcosa di bello Ma c'è Guarda Ok 540 Questo è il mio rotondo Gli ho chiesto Me l'ha dato Una scrivania Ok Delle scatole Stef è pieno di GT GTX 1080 Vieni Vieni Rubiamo Eh ma siamo arrivati alle 2000 Eh vabbè Rubiamole lo stesso Le rivendiamo Ma Fare Tornale Tornale Trova Stef Che sta succedendo Non lo so Mi stanno uccidendo le orecchie Ma io non capisco Parti Che succede Parti Ma tu che stai addendo Non lo so Stef Questa ascensore Mi sta facendo venire Mal di testa Mi sta facendo venire Mal di testa Allora Ci fermiamo Sì Basta Era orribile Mi ha ingannato con l'oro E con l'usso Ero tutta felice Invece mi ha fatto passare Una giornata terribile Io ancora una patata Ok L'importante è questo Lo so Lo so Quello è l'importante Ci fermiamo così Speriamo che in qualche modo Vi sia piaciuto L'ascensore di lusso Che non era primamente di lusso È stato terribile Oh c'è un fidget spinner Vai Ok vai Osserviamo tutti i fidget spinner Girare Speriamo che il video Vi sia piaciuto Qua sotto Oh mio dio È tutta una musica poi Qua sotto Con un po' di altri video Oh mio dio È fortissima Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 ciao